Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui su Spazio Verticale le migliori novità dal mondo dell'arrampicata le potete trovare solamente qui continua la nostra quarantena quindi noi dobbiamo continuare a rimanere in casa è un modo difficile per tutti oggi per voi ho trovato un video che ha girato un mio amico Giorgio Tomatis riesce a salire qualche settimana fa a WRC un bellissimo 9A a Castiglioni in Francia abbiamo qui il video quindi andiamo a vedere Giorgio impegnato in questa difficile salita Grazie a tutti 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 Grazie a tutti